a più più nasce una ventina d'anni fa a milano con un'idea molto forte portare avanti un principio di coerenza coerenza stilistica coerenza legata alla sostenibilità e di coerenza anche di lifestyle nel progetto e nei progetti che abbiamo seguito durante gli anni sempre più mirato alla soddisfazione dell'abitare alla soddisfazione del vivere in un'area in un ambiente progettato con delle coerenze stilistiche il tema dello showroom era infatti quello di andare a creare delle esperienze casalinghe ovviamente quando parliamo di mobili è importante avere un target è importante avere un'idea di dove dobbiamo andare e questa sarà una filosofia sicuramente che prende in considerazione uno spazio di felicità quindi questa coerenza di pensiero è quello di creare un ambiente dove la gente possa essere felice dove sia palpabile la filosofia aziendale di Febalcasa Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!